Di questa chiesa se ne trova menzione all'inizio del 1300, ma le notizie relative alla sua storia si perdono nei secoli. Ci restano le immagini che in qualche modo testimoniano quello che è stata e quello che ha rappresentato. Grazie a tutti. 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 Ma che dite? A me è piaciuto. Anche a me. Mi iscrivo al canale. Ti seguo.